Scintille fin dall'apertura con il pirotecnico Grande Gatsby di Bats Lurman hanno poi accompagnato l'intera 66esima edizione del Festival di Cannes, ricca di stelle e di film di grande interesse a detta di Chi era sulla Croisette. Ci sono stati grandi registi in gara quest'anno e dunque grandi film e sono stati dei film che hanno affrontato tematiche interessanti come l'omosessualità. Questa edizione ha risposto alla grande e alle aspettative, è stato un festival audace. Abbiamo scoperto nomi nuovi e come quasi sempre sesso e violenza hanno caratterizzato il concorso. Fra tante stelle del cinema che si sono fatte vedere in Costa Azzurra, una del firmamento si è fatta a tendere un po' il sole. È stato veramente bello nonostante la pioggia dei primi giorni. È stato un anno eccezionale, una passerella eccezionale tutte le sere, a livello di giuria, di star, di emozioni formidabili ogni volta. Calato il sipario sulle proiezioni via le premiazioni. Sarà Uma Thurman, abitué di canna, consegnare la palma d'oro.